Il match point, l'abbiamo detto, di Trento, sono 6, 24 a 18 contro la Bungera-Venna. L'attacco da parte di Finger, si difendono molto bene con Van Gardene, poi Tino Ornaut, spara quel pallone, lungo linea c'è proprio Zavarone, Walsh. L'attacco da parte di Finger, salva con una mano proprio Ervingia-Petter, l'attacco di Ervingia-Petter, tirato ancora su con il pallone piazzato. Ancora una volta c'è in fondo al campo Van Gardene, poi l'attacco di Tino Ornaut, il punto per Modena, insomma c'è una bella reazione, è una tie-break sicuramente di grinta per la formazione di Modena che sta, insomma, riprendendosi un po' tutto quello che aveva lasciato durante questa sfida. È un pallone questo che si impende e arriva dietro.